C'era una volta uno che si chiamava C'era una volta un re, gli abbufei, gli abbiscotti, gli abbinetti Mostra un re, gli abbufei, gli abbiscotti, gli abbinetti Aveva una figlia, gli abbifiglia, gli abbiscotti, gli abbinetti Mostra figlia, gli abbifiglia, gli abbiscotti, gli abbinetti Aveva una uccello, gli abbicetto, gli abbiscotti, gli abbinetti Mostra un genio, gli abbicetto, gli abbinetti, gli abbinetti, gli abbinetti, gli abbinetti un giorno ci volò è volato è volato l'uccello bravo e giustamente un re fece un panno e disse a cottova l'uccello bicendo il biscotto jeminezzo è un cilogno a me figgia a me figgia, a me figgia, a me figgia a me figgia, a me figgia, a me figgia a me figgia, a me figgia, a me figgia ma... se guida arriva in dignuso guavuso biscotti e minuso non vi è più arricchato brutto e puro salaruso afferra per primo l'uccello bicendo biscotto e minetto vanni lo regge e dice signorina buba e biscotti e minetto e che c'è l'uccello bicendo biscotto e minetto ragazzi ma buon c'è il bicendo biscotto e minetto a me figgia a me figgia a me figgia che biscotti e minetto a te che se non vi è ciò bambuso il biscotto e minuso mangiare la gnocchia arricchia brutta e brutta la rusta ma dico eh, sono bello tengo ogni tanto che il corpo lì c'era una volta d'un re boffè biscotta eouvilia avevano uceto uceto uwceto. ri un giorno ci volò anche lo rubano le tote ma hociuto un g bull ma c'è l'uceto 나오ci arriva di gneusso, io uso biscotti menuso, mangio dalla gneusso, non mi piace arrabicciato brutto e spruzza, daruto, va bene l'oceno, piccato, biscotti minero, vanno l'oregiotta, io rilevo per i biscotti minero, faccio l'oceno, piccato, biscotti minero, ora da una volta a figlio, a pepe, a biscotti, a me ne ia, per scusa, a volta a figlio, a persusa, a volta a figlio, a pescusa, un re guarda dice:"Oo!", eh non è se lo capite? su ti ne vai, luco, tengo ogni tanto che ho scoppolone, ti faccio ne va a bregare, ooooooooooooooooooooooo! A presto. ...d'ora, è l'uomo! ...d'ora si piazzata. ...d'ora più fuori. ...d'ora, ci dico. Però me lo spettava a nè. Ah! Sì! No! Ah, mamma mia! Allora è! ...d'ora! Grazie. Grazie. Grazie, 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 grazie. Siete liberi di circolare, andate a vedere altre storie, altre racconte, vi ringrazio, alla prossima, siete gentilissimi, bellissimi, grazie!